Sono giorni frenetici dal punto di vista tecnico in Casarezzo, però dal punto di vista strutturale per quanto riguarda il progetto che Ferretti aveva avanzato sullo stadio, ti vogliamo chiedere se è stato fissato un incontro, se hai avuto modo di parlare con il Presidente? Non mi occupo dell'aspetto tecnico della squadra e agonistico, quindi mi occupo della struttura dello stadio. Alla partita Arezzo-Sansepolcro abbiamo parlato di Ferretti e mi ha comunicato l'intenzione di venirmi a trovare a fine febbraio e inizi di marzo per portarmi ufficialmente il progetto che già aveva annunciato qualche mese fa. Quindi resto in attesa della sua visita durante la quale spero, credo e auspico si possa affrontare in maniera chiara tutte le problematiche e gli interventi che Ferretti intende proporci all'interno della struttura dello stadio comunale.